Controlli anti-covid nel salernitano da parte di tutte le forze dell'ordine come disposto dal questore di Salerno. Al termine di mirati i servizi, posti in essere in particolare nei pressi dei luoghi dove maggiori sono i rischi di possibili affollamenti e finalizzati al rispetto delle misure anti-covid, sono state controllate nell'ultima settimana oltre 7.700 persone. Oltre 1.400 gli esercizi pubblici controllati di cui 4 titolari sanzionati per mancato rispetto delle normative anti-covid. Sono 55 le persone sanzionate per mancato utilizzo della mascherina e per violazione del coprifuoco. Nei pressi degli esercizi commerciali e dei siti maggiormente frequentati fanno sapere dalla questura di Salerno sono stati organizzati costanti servizi di controllo per prevenire e contrastare eventuali risse, contatti troppo ravvicinati, scarso uso delle mascherine e consumo di alimenti e bevande in luoghi chiusi. Dunque, sebbene sia stato necessario ricorrere a misure sanzionatorie nei confronti di alcuni soggetti, specifica la nota della questura, la maggior parte dei cittadini salernitani e dei ristoratori ha evidenziato senso civico e chiara adesione alle regole di comportamento legate all'emergenza covid.